Musica Musica Molti ci chiedono ma come funziona? Oppure l'obiezione principale che ci fanno è sì ma già ce lo fa la location è vero noi in Italia abbiamo delle location che sono delle eccellenze però vedete questa figura professionale lo chef della frutta non è presente in tutte le location e sapete per realizzare un buffet del genere quante ore di lavoro ci sono considerate che si parla anche di 15 giorni prima la parte scenografica, la parte del tema, la parte dei colori, la costruzione del buffet per parlare poi di tutti gli intagli che verranno fatti, che vengono fatti nei giorni precedenti saremo con voi tutta quella giornata a disposizione dalla mattina fino alla sera dell'evento per realizzare questo buffet di frutta per poi aspettare il termine, ritirare il nostro materiale e andare via e quindi le location molto spesso non hanno personale che ha queste competenze per poter realizzare questi buffet tanto è vero che si appoggiano a noi, ci chiamano a noi chef della frutta proprio ci danno l'incarico per creare emozione nei loro eventi e quindi dare questo spettacolo ai loro ospiti ed ecco perché ci tengo veramente tanto che se vuoi distinguerti vuoi realizzare qualcosa di wow qualcosa di diverso, di unico di unico ma soprattutto ti vuoi distinguere questa è l'occasione giusta per creare emozioni grazie a tutti 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 grazie a tutti